Io sono convinto che si possa trovare un tracciato che possa da un lato favorire il traffico senza che questo passi all'interno di Serna e dall'altro conservare quel bacino idrografico senza toccarlo. Come noto, con una delibera di giunta, l'amministrazione comunale di Serna ha deciso di impugnare al TAR la proroga del provvedimento regionale di valutazione ed impatto ambientale relativa all'otto zero. Gli amministratori di Palazzo San Francesco ritengono che sussistono criticità sulla realizzazione dell'opera, sia sotto il profilo ambientale sia paesaggistico, anche sotto il profilo economico e della reale utilità, nonché sotto quello procedurale. Di tutt'altro avviso Gabriele Melogli, leader dell'opposizione. Melogli che unitamente all'allora sindaco di Miranda promosse la realizzazione dell'opera. Per quello che ne so io dal punto di vista tecnico sono stati rispettati tutti quanti, sono stati fatti tutti i passaggi indispensabili perché l'opera fosse realizzata nel migliore dei modi e fosse una realizzazione che rendesse tranquilli tutti, sia i cittadini di Pesca e di Miranda, soprattutto i cittadini di Serna. Quindi veramente rimango senza parole. Poi quando sento parlare di questi risparmi di tempi, onestamente mi viene da sorridere, non da ridere, perché come si può pensare? A qual è il risparmio se l'opera non è stata ancora realizzata? È chiaro che oggi passeranno 100 macchine per fare un esempio, ma il giorno in cui dovesse essere realizzata l'opera non ne passeranno 100, ne passeranno mille di macchine perché tutti quelli che oggi fanno la strada per andare a Roccaraso e che passano da Roccaravindola, salgono da Roccaravindola, è chiaro che sarebbe sicuramente più opportuno fare questa altra strada. Quindi il risparmio si potrà vedere soltanto dopo. Per l'ex sindaco di Serna gli amministratori dovrebbero pensare a ideare e realizzare grandi opere, non ad accontentare un elettorato composto da una decina di persone. Ci sono state indagini fatte anche dalla Procura della Repubblica, perché adesso è una questione che si trascina ormai da decine di anni. Sono stati fatti tutti i rilevi possibili e immaginabili, anche l'impatto ambientale. Gli studi sono stati fatti da tecnici, da professionisti. Io penso che bisogna stare tranquilli e bisogna avere fiducia e avere grandi orizzonti, perché quello che distingue le persone e gli amministratori sono proprio gli orizzonti. Chi ha grandi orizzonti immagina di fare queste strade e di fare queste opere. Chi invece non ce li ha, pensa soltanto all'immediato, casomai a guadagnare quei dieci voti di quelle dieci persone che sono contrari a un'opera di questo genere per interessi personali. Grazie. Grazie. Grazie.